Come recuperare un aero da guerra da Forza Ancuda? Allora, prima di tutto, procuratevi un'auto o un camion abbastanza alti, tipo questa qua, ok? Seconda cosa, non entreremo dall'entrata di Forza Ancuda, ma entriamo lateralmente. Adesso vi faccio vedere esattamente il punto. Ok, ragazzi, magari arrivateci tutto di un pezzo e non come me. Allora, dovete accostarvi a questo punto, a questo muretto, perché dobbiamo scavalcarlo. A questo punto, ragazzi, il salva partita diventerà il nostro migliore amico. Allora, salviamo la partita. A questo punto scavalchiamo, ok? Bella, madonna, non così però, Trevor. Quando entriamo da questa posizione, non partiranno subito le quattro stelle. Partiranno quando noi arriveremo lì a metà pista. Quindi ora inizio a correre verso il jet che si troverà dietro quelle pareti, diciamo qualcosa rosso. Dovreste riuscire a raggiungerlo senza essere ammazzati, perché in teoria prima che arrivano cararmati, cazzi e mazzi, passerà un po' di tempo. Preparatevi subito a salvare di nuovo la partita. La salveremo quando saremo dentro il jet e proprio saremo appena partiti. Allora, Trevor, mi raccomando, eh, non morire, te prego. Ok, ci siamo, ragazzi, pronti a salvare la partita. Dobbiamo essere veloci. Quando siamo più o meno in questa posizione, apriamo... E... ok. Sono andato anche leggermente lungo, però ce l'abbiamo fatta. Allora, a questo punto probabilmente ci ammazzerà, ok? No problem, perché noi ricaricheremo la partita che abbiamo appena salvato. Allora, ricarico la partita. Pronti per salvare la terza e ultima volta, eh? Allora, adesso ci allontaniamo un altro pochino da Forza Ancuda e poi, probabilmente ci prenderà di nuovo il miste. Noi risalveremo subito dopo, eh? Quindi pronti col salvataggio terzo e ultimo. Allora, pronti col terzo e ultimo salvataggio, ragazzi. Mi preparo il telefono, mi preparo già il salvataggio rapido. Sono pronto. Ok, io risalvo di nuovo la partita, ragazzi, di nuovo. Guarda, non mi schianto manco e vado a ricaricare la partita. Eccoci, ragazzi. Ho caricato l'ultimo salvataggio e eravamo abbastanza lontani per riuscire a scappare. Basterà portare l'aereo nel nostro hangar e quindi avremo il nostro getto da guerra pronto. Bello, bello nuovo. Ehi, a dios. Ehi, niente.